Oggi entriamo nel mondo di come nelle favole. Questa collezione è composta da quattro texture, un fondo rosso con disegno barocco, un fondo panna con delle corone stampate, due micro disegni in coordinato. Lo stesso decoro lo troviamo nel servizio da tavola e naturalmente nelle posate. Non possono infine mancare dei centrotavola a forma di corona per impreziosire la tua mise en place. Una simile cura nei dettagli ai tuoi ospiti non passerà inosservata.